Prende via la quarta edizione del Carnevale Intercomunale 2019 organizzato dalle proloco di Alfano, Laurito, Montanantiglia e Rofrano. Tale evento ha lo scopo primario di creare l'aggregazione e la condivisione delle attività ludico-ricreative e culturali del territorio, incendivando lo spirito di collaborazione, in particolare dei giovani, nella progettazione e realizzazione di obiettivi comuni. Si inizia domani, sabato 23 febbraio 2019, a Rofrano, a partire dalle ore 15, presso il parcheggio Tessanti, dove prenderà il via la sfilata dei carri in gruppi e singole maschere, con l'arrivo poi nel parcheggio antecedente Piazza Cammarano, dove si terrà la festa conclusiva. Si continua domenica 24 febbraio, l'appuntamento sempre a partire dalle ore 15, ad Alfano, presso il rione San Pietro. La sfilata si concluderà, dopo aver percorso le strade cittadine, nello spazio antistante Piazza Cavalier Giovanni Greco.